Monte San Giacomo truffa i danni degli anziani, due casi in pochi giorni. Rocca d'Aspide, incidente stradale, costa la vita a due diciottenni. Ospedale di Polla, la nuova tacchi installata, soddisfatto il tecnico coordinatore Voca, grazie al dottor Mandia l'ospedale eleva la qualità del servizio. Sant'Arsenio, il 2 novembre la consegna delle 27 borse di studio a Banca Montepruno. Sport Calcio, in campo tra domani e domenica, l'ottava giornata di eccellenza e promozione. Buongiorno, ben trovati con l'appuntamento con l'informazione di Uno News. Apriamo con la cronaca, andiamo a Monte San Giacomo dove si sono registrati alcuni casi di truffa e danni di anziani malcapitati. Due casi in pochi giorni, quelli messi a segno e diversi tentativi invece, sventrati, parlano, indagano i carabinieri. Ma ci dice tutto, Rosa Romano. Fra truffe riuscite e truffe tentate, Monte San Giacomo sta vivendo giornate concitate. Due casi messi a segno in pochi giorni, ad essere preso di mira il solito bersaglio facile per i malintenzionati, gli anziani che abitano da soli. In un caso, il raggiro è avvenuto ai danni di una coppia che alcuni dei figli e dei nipoti lontani, prima sono stati contattati per telefono. Chi chiamava si è presentato come uno dei parenti, dicendo che era in difficoltà con una spesa imprevista e che sarebbe passato un corriere a ritirare i soldi di cui aveva bisogno. Effettivamente, dopo qualche minuto, un uomo si è presentato alla porta di casa e due malcapitati gli hanno consegnati. Un secondo caso invece ha visto circuita una donna con la truffa del finto incidente. Simile il modus operandi, hanno prima telefonato a casa della vittima facendole credere che il figlio aveva causato un incidente e che una signora vi era rimasta gravemente ferita. Quindi occorrevano dei soldi per togliere l'uomo dai guai. La donna li ha dati a un soggetto che l'ha raggiunta a casa per assicurarsi il bottino. Le tecniche ormai sono studiate e collaudate per confondere le vittime, fanno leva sul momento di panico o al telefono quando si presentano come parenti camuffano la voce. Il valore standard delle truffe di solito si aggira intorno a 1.500 euro. Sempre a Monte San Giacomo vi sono stati anche episodi in cui dei malfattori hanno tentato di spillare soldi, ma gli anziani contattati insospettiti hanno chiamato i figli per avere rassicurazioni, mandando così a Monte il piano. Su tutti questi casi stanno indagando i carabinieri che invitano alla prudenza e a diffidare o eventualmente denunciare comportamenti sospetti. Continuiamo con la cronaca. Tragedia ieri sera a Rocca d'Aspide, dove due giovani amici diciottenni hanno perso la vita in un pauroso incidente stradale avvenuto lungo la strada statale 166 degli Alburni, in località Difesa. Si tratta dei giovanissimi Vincenzo Pepe e Pasquale d'Agosto, coetani ed entrambi residenti nel comune rocchese. Fatale un pauroso scontro frontale tra la lancia Y sulla quale viaggiavano e una BMW 320, con a bordo una coppia di medici odontoiatri di Castel San Lorenzo, feriti gravemente e trasportati d'urgenza all'ospedale di Battipaglia dalle unitari e animative della Croce Azzurra di Licinella, intervenute sul posto unitamente alle ambulanze medicalizzate della Croce Rossa. Per i due amici purtroppo non c'è stato nulla da fare. Nel violentissimo impatto sono rimasti intrappolati tra le lamiere contorte della loro vettura, finita di traverso contro alberi a bordo strada, con il motore sradicato dal telaio e finito a diversi metri di distanza sulla carreggiata. Numerose le persone accorse sul luogo del sinistro, strazianti le urla di dolore dei parenti di Vincenzo, figlio di un noto idraulico della zona, e Pasquale, figlio di un altrettanto conosciuto collaboratore scolastico. Due giovani di famiglie oneste e per bene, due ragazzi dalla faccia pulita e il sorriso sempre stampato sulle labbra, stroncati da un destino crudele sull'asfalto, nel fiore degli anni, per lo strazio di una comunità che ora è sotto shock. Ai vigili del fuoco del distaccamento di Eboli, diretti dal caposquadro Alfonso Di Pace, il doloroso compito di tranciare le lamiere con l'accesoia pneumatica per consentire i soccorsi, purtroppo vani. Sul posto sono giunti i militari dell'aliquota radiomobile e della locale stazione, coordinati nei rilevi del caso dalla compagnia di Agropoli agli ordini del capitano Francesco Manna. Avvisato il magistrato di turno presso la procura della Repubblica di Salerno, sull'esalme dei due diciottenni è stato eseguito l'esame esterno a cura del medico legale. Sul luogo del dramma è giunto anche il sindaco di Roccadaspide, Gabriele Giuliano, il quale non è riuscito a trattenere le lacrime nel sussurrare il profondo dispiacere per la perdita dei due giovanissimi concittadini. E un altro incidente mortale si è verificato ieri mattina a Borgo Cariglia, nel comune di Altavilla, Silentina, a seguito di uno scontro frontale tra due veicoli e ha perso la vita Anna Rosa Voiro di Roscigno. Ancora sangue sulle strade salernitane, incidente mortale ad Altavilla, Silentina. Nello scontro frontale tra due auto, una Fiat Panda ed una Lancia Musa, avvenuto nella mattinata di ieri sulla strada provinciale 317 e località Borgo Cariglia, nei pressi dell'intersezione tra Via Nettunia e Via Pisacane, ha perso la vita una donna di Roscigno, originaria di Cicerale, la 91enne Anna Rosa Voria, che viaggiava con la figlia a bordo della Lancia, finita in un canale consortile a seguito del violento impatto. Ferito in maniera grave anche il conducente dell'altra vettura, un trentenne di battipaglia trasportato d'urgenza in ospedale dall'equip di un'ambulanza del 118. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione, diretti dal maresciallo Vittorio Lurito, che hanno eseguito tutti i rilievi del sinistro con il coordinamento della compagnia di Eboli, agli ordini del capitano Luca Geminale. La salma della 91enne è stata riconsegnata ai familiari dopo l'esame esterno del medico legale presso l'obitorio dell'ospedale di Eboli, con i funerali che si terranno nella chiesa di San Nicola di Bari a Roscigno, dove la donna viveva. Continuiamo al via gli interrogatori di garanzia per gli otto indagati nell'ambito dell'operazione Coffee Break, portata avanti dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina, diretta dal capitano Davide Acquaviva, su disposizione della procura di Lago Negro. Oggi primo interrogatorio di garanzia per uno degli indagati che era già posto in arresto per altri reati. Gli ulteriori interrogatori si svolgeranno invece lunedì mattina, saranno ascoltati presso la procura della Repubblica del Tribunale di Lago Negro al fine di valutare la sussistenza alle misure cautelari emesse in seguito proprio all'operazione Coffee Break a capo degli indagati. Cambiamo argomento, lasciamo la cronaca. Non sono stati al momento ancora predisposti dal Comune di Sassano un regolamento per la partecipazione popolare e l'istituzione del Comitato Pari Opportunità. arriva quindi la nota del difensore civico che chiede di provvedere in tempi celeri per il gruppo Meetup di Sassano. Il gruppo Meetup di Sassano attacca a tal proposito l'amministrazione parlando di commissariamento. Vediamo. A Sassano manca un regolamento per gli istituti di partecipazione popolare dei comitati unici di garanzia per le pari opportunità e il difensore civico del Consiglio regionale invia una nota in cui si sollecita la regolamentazione. Se non dovesse avvenire nei tempi stabiliti cioè 60 giorni per il regolamento per la partecipazione popolare e 45 giorni per la costituzione del Comitato per le pari opportunità sarà un commissario che provvederà all'adozione dei due atti in questione. Il gruppo Meetup no all'indifferenza attacca sul tema il Comune parlando di rischio commissariamento. Secondo gli attivisti del Movimento 5 Stelle l'intervento del difensore civico regionale dimostra l'importanza dell'Istituto della partecipazione popolare nella gestione della cosa pubblica. Inoltre sottolineano come nello Statuto Comunale non sarebbero neanche contemplati l'utilizzo di strumenti come Consiglio Comunale Aperto, istruttoria pubblica e bilancio partecipato. Da qui quindi la volontà del gruppo Meetup no all'indifferenza di voler mettere a conoscenza dei cittadini di quanto sta accadendo attaccando, a volte anche con parole e termini duri, l'amministrazione comunale di Sassano. La diffida del difensore civico, scrivono gli attivisti del gruppo Meetup Sassano, è la prova di un paese dove i diritti restano favori e la democrazia partecipativa è stata mortificata nei più elementari principi con la trasparenza che continua ad essere negata. Siamo di fronte ad un fatto grave, dichiarano dal gruppo, ma siamo anche coscienti che il bisogno di conoscere non può essere soddisfatto senza l'affermazione del diritto di sapere e soprattutto senza la difesa del diritto di partecipazione attiva. L'auspicio è che nelle prossime settimane si attivi un percorso di coinvolgimento e confronto con cittadini e associazioni attraverso un tavolo tecnico dal quale possa uscire una proposta di regolamento condivisa e realmente utile alla collettività e che non si approvi solo un documento volto a salvaguardare la forma. Il gruppo inoltre sottolinea come al comune di Sassano il difensore civico avrebbe fatto pervenire anche altre richieste di chiarimento in merito ad accesso agli atti negati, dando 30 giorni di tempo per fornire le proprie ragioni. E immediata arriva la replica del sindaco di Sassano, Tommaso Pellegrino che stigmatizza il comportamento dei referenti del gruppo sottolineando come si tratti di atteggiamento volto alla mistificazione della realtà. Pellegrino raggiunto telefonicamente sottolinea come il comune non è assolutamente a rischio commissariamento come invece volevano far intendere gli iscriventi di Meetup Sassano e ricorda come un commissario ad acta dovrebbe intervenire solo ed esclusivamente per l'atto in questione che in questo caso quindi riguarderebbe eventualmente l'istituzione del comitato pari opportunità e l'adozione del regolamento per la partecipazione popolare. Il primo cittadino di Sassano invita inoltre ad un confronto su temi più importanti. Vediamo. Dobbiamo fare chiarezza perché la verità è che a Sassano non c'è nessun rischio commissariamento, non c'è nessun documento, non esiste un documento nel quale si parla di commissariamento per il comune di Sassano, ma addirittura non c'è neppure nel testo del comunicato Samba che hanno presentato. Il commissariamento è una cosa, il commissario ad acta è un'altra cosa, significa intervenire su atti specifici dove viene nominato in sostituzione dell'amministrazione un tecnico per adendere per quell'atto specifico, quindi nulla a che fare con l'amministrazione comunale che resta al suo posto e per dispiacere di queste persone che da 8 anni continuano a calugnare e diffamare i sottoscritti del comune di Sassano nascondendosi volta per volta sotto le varie sigle e devo dire che non ne faccio una questione alle sigle perché dietro quelle sigle ci sono anche tante persone serie per bene che lavorano, ma io ne faccio una questione rispetto delle persone che fa questo quotidianamente, che cambiano sigla e però continuano la loro azione, ma ci sono partendo da che cosa? Dalla mistificazione della realtà, perché se oggi ci fosse un atto nel quale si parla di commissariamento, allora ovviamente noi risponderemo rispetto a questo tema, ma oggi non c'è nessun atto che va in questa direzione, il difensore civico ha invitato, neppure diffidato ad adendere rispetto a delle situazioni regolamentari che per quanto ne so attengono anche alla discrezionalità delle scelte amministrative, ma questo poi lo verificheremo, poi se loro sono in possesso di elementi rispetto ai quali il comune di Sassano non avrebbe rispettato la legge, siamo pronti a rispondere nelle sedi opportune, non abbiamo problemi, ci denunciassero, ne rispondiamo nelle sedi opportune e abbiamo la coscienza tranquilla perché non suffice, il segretario comunale, l'amministrazione comunale continua in modo serio e corretto a rispettare le leggi, quindi è opportuno e giusto dire la verità, che non c'è nessun rischio di commissariamento, ci sono delle note del difensore civico, alcune delle quali mandate anche a più comuni, ma c'è una delle note specifica alla quale loro fanno ritenimento, c'è un invito ad adendere rispetto ad alcune procedure regolamentari, rispetto alle quali si può nominare un commissario ad acta, per quanto concerne l'atto specifico. Passiamo alla sanità, mancano poche ore ormai per la messa in funzione della nuova e tecnologicamente avanzata TAC in dotazione presso l'ospedale Luigi Curto di Polla, un momento a lungo atteso anche per le difficoltà vissute in particolare dai tecnici operatori nei mesi scorsi con una sola TAC a disposizione e che peraltro necessitava spesso di manutenzione. Il tecnico coordinatore Graziano Vocca esprime la sua soddisfazione e ringrazia il direttore sanitario, dottor Luigi Mandia, per l'impegno. Era attesa da tempo e ora la nuova e moderna TAC è in dotazione all'ospedale Luigi Curto di Polla. Finalmente anche il presidio ospedaliero valdianese può vantare la disponibilità di un'apparecchiatura tecnologicamente avanzata che sarà di grande aiuto nelle diagnosi, garantendo una più alta qualità del servizio sanitario locale. Ultimato l'adeguamento dei locali, come promesso dal direttore sanitario dottor Luigi Mandia, si è provveduto all'installazione della nuova TAC con grande soddisfazione, soprattutto da parte dei tecnici radiologi che nei mesi scorsi avevano dovuto spesso far fronte ad emergenze varie nel loro importante lavoro. Ad aver espresso la sua soddisfazione per l'arrivo e la ormai prossima messa in funzione della moderna TAC, il tecnico coordinatore per le strutture sanitarie di Polla e Sant'Arsenio, nonché già amministratore comunale di Polla, Graziano Vocca, che anche nella sua attività amministrativa aveva più volte sottolineato l'importanza di dotare l'ospedale di Polla di apparecchiature più nuove e funzionali, elogiando l'azione del direttore sanitario dottor Mandia, che sin dal suo arrivo a Polla ha insistito nel potenziamento del presidio e nell'efficientamento della dotazione strumentale e tecnologica. In vista dell'attivazione della nuova TAC, dichiara Graziano Vocca, voglio esprimere il mio sentito ringraziamento al direttore sanitario dottor Luigi Mandia per la tenacia e la forza avuta fino ad oggi nell'azione che ha portato ad un miglioramento della sanità valdianese. Il servizio sanitario sta vivendo purtroppo momenti di grande difficoltà in tutta Italia, continua, con ripercussioni inevitabili anche nel nostro territorio, che resta un'area periferica e marginale. Il dottor Mandia si è prodigato per l'arrivo di nuova attrezzatura ospedaliere e soprattutto per l'arrivo di questa nuova ed efficientissima TAC, apparecchio di ultima generazione che consentirà al nostro nosocomio di migliorare qualitativamente la sanità al servizio dei cittadini. E' doveroso inoltre, continua Graziano Vocca, ringraziare il direttore sanitario in qualità di tecnico coordinatore ma anche a nome di tutta l'equip per lo sforzo profuso al fine di assicurare l'imminente arrivo della nuova tecnologia mammografica per lo studio delle varie patologie della mammella. E ora ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, restate con noi. Bentornati alla seconda parte del nostro TG, da domenica 28 ottobre torna l'ora solare, gli orologi degli italiani segneranno un'ora indietro riducendo le ore di luce della giornata. Giuseppe Ovromolla. Torna l'ora solare. Domenica 28 ottobre gli orologi degli italiani segneranno un'ora in meno riducendo le ore di luce delle prossime giornate. Il cambio dell'orario che determina il passaggio dall'ora legale a quella solare segna di fatto l'avvicinarsi della stagione invernale caratterizzata da giornate più brevi in termini di luce con tramonti anticipati nei prossimi mesi fino alla stagione primaverile. Almeno nella giornata di domenica gli amanti del sonno potranno beneficiare di un'ora in più di riposo a livello storico. L'istituzione dell'ora legale avvenne nel 1916 e fu importantissima per conseguire nel periodo della guerra mondiale un notevole risparmio energetico anche se dopo quattro anni fu abolita. Solo con il decreto legge numero 503 del 1965 il cambio dell'orario fu previsto in maniera definitiva. La norma prevede che una volta attuata l'ora legale dovesse avere durata quadrimestrale ma con il passare del tempo il periodo di applicazione è divenuto quello attualmente vigente. Il passaggio dall'ora legale a quella solare avverrà in automatico su pc, tablet e smartphone di ultima generazione a livello manuale invece in tutti gli altri casi. La novità assoluta è che potrebbe essere l'ultima volta che le lancette si spostano indietro. Infatti la Commissione europea ha proposto di mettere fine all'obbligo del passaggio. Se la mozione sarà approvata gli stati membri potranno scegliere quale dei due orari adottare per tutto l'anno. A Sala Consilina nella serata di ieri si è tenuto un convegno sul tema la presenza cristiana in Terra Santa e le opere dell'ordine organizzato dall'ordine equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme. Rosa Romano. Ieri sera presso l'auditorium della Chiesa di Sant'Anna Sala Consilina si è tenuto un convegno sulla presenza cristiana in Terra Santa e le opere dell'ordine equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme organizzato dalla delegazione San Cono Teggiano Policastro il cui delegato è il Cavaliere Antonio Lambiase. L'ordine è un ordine cavalerisco pontificio con personalità giuridica vaticana e di diritto canonico quindi è riconosciuto sia dalla Santa Sede che dalla Repubblica Italiana. La nostra delegazione è presente sul territorio dal 2014, attualmente ne fanno parte i 35 membri ma siamo in crescita con eventuali nuove investiture. L'ordine ha più di 900 anni di storia, è strettamente legata al patriarcato latino di Gerusalemme in quanto la finalità principale proprio dell'ordine è quello di sostenere le attività e le opere del patriarcato. All'incontro era presente il dottor Carlo Pubblico, consigliere della luogotenenza per l'Italia meridionale e tirrenica, che ha parlato degli scopi e delle attività dell'ordine da sempre impegnato nella testimonianza di fede e di pratica di vita cristiana. Tutte le attività del patriarcato sono finanziate dall'ordine del Santo Sepolcro. Noi siamo 34.000 in tutto il mondo e quindi i finanziamenti provengono dalle singole donazioni dei cavalieri che li inviano al Gran Magistero a Roma in Vaticano e questi fondi che arrivano al Gran Magistero vengono trasferiti al patriarcato latino di Gerusalemme. Tutto ciò che fa il patriarcato, quindi le scuole, le parrocchie, gli insegnanti che vengono pagati, gli olofanatrofi, vengono finanziati dall'ordine del Santo Sepolcro. Tra i relatori ieri sera padre Sergio Galdi d'Aragona, commissario generale di Terra Santa, ha fornito una testimonianza della significativa presenza cristiana in quei luoghi. Noi come custodia di Terra Santa cerchiamo di custodire e trattenere questa piccola comunità cristiana della Terra Santa attraverso tutta una serie anche di opere sociali, quali possono essere l'elargizione di borse di studio, abbiamo oltre 14 scuole, abbiamo una scuola che è il Un piccolo miracolo è che il nostro fiore all'occhiello in piena città vecchia a Gerusalemme è una scuola fondata da un frate francescano, padre Armando Pierucci, dove studiano insieme cristiani cattolici, ortodossi, ragazzi musulmani, giovani ebrei, credenti, provenienti anche dall'ateismo è realmente un piccolo miracolo e d'ora stiamo anche creando una banda musicale. Abbiamo tutta una serie di progetti, il progetto case per cercare di favorire in tutti i modi anche le giovani coppie cristiane e per chiedere loro di non emigrare. Giunge a conclusione la decima edizione del bando delle borse di studio consegnate dalla Banca Montepruno agli studenti meditevoli. Il prossimo 2 novembre alle ore 18 la cerimonia di consegna. Giuseppe Promolla. Venerdì 2 novembre alle 18 presso la Sala Cultura della Banca Montepruno a Sant'Arsenio si terrà la conclusione della decima edizione del bando delle borse di studio che la Banca Montepruno ogni anno mette a disposizione delle giovani generazioni. L'edizione 2018 ha visto l'assegnazione di borse di studio a favore di diplomati con votazione da 98 centesimi a 100 centesimi dal valore di 200 euro con votazioni per i laureandi da 108 a 110 a 110 su 110 e lode dal valore di 350 euro. Inoltre la novità di quest'anno riguarda l'associazione Montepruno Giovani con l'istituto di credito che ha messo a disposizione un premio dal valore di 250 euro agli iscritti del sodalizio che hanno conseguito il titolo tra il primo gennaio 2017 e il 31 luglio 2018 con votazione di 110 su 110 e lode. Anche la decima edizione ha visto la collaborazione organizzativa della Banca Montepruno, del Circolo Banca Montepruno e l'Associazione Montepruno Giovani. Durante la consegna delle borse di studio interverranno il presidente del Consiglio Amministrativo Anna Miscia, il presidente del Circolo Banca Montepruno Aldo Rescinito e il presidente dell'Associazione Montepruno Giovani Antonio Mastrandrea. Le conclusioni saranno affidate alla direttore generale Michele Albanese. Felici hanno affermato il presidente Anna Miscia e il direttore Albanese di portare a compimento anche questa decima edizione che vede la nostra banca impegnata in un'azione di vicinanza nei confronti di quei giovani che con merito hanno concluso una parte del loro percorso formativo. In questo modo cerchiamo anche di far capire agli altri ragazzi l'importanza dello studio sperando che il riconoscimento di un premio possa rappresentare un esempio da emulare. La cerimonia di venerdì, concludono, sarà un'occasione per incontrare questi giovani e le loro famiglie, trasmettendo un messaggio chiaro e cioè che c'è qualcuno che crede nel merito scolastico e soprattutto nella costruzione del loro futuro. domani sabato 27 ottobre a Padula si parlerà di arte con Emma Russo Carrara in un evento organizzato dal circolo sociale Carlo Alberto 1886 preseduto da Felice Tierno. L'incontro si inserisce nell'ambito delle numerose iniziative culturali promosse sul territorio dal sodalizio padulese in stretta collaborazione con la banca Montepruno alle ore 17 nella sala convegni della Certosa di San Lorenzo. L'eccellente ed affermata storica dell'arte sarà protagonista e presenterà Venere Nuda, il nudo nell'arte con aneddoti e curiosità e immagini magiche. Con l'autrice interverranno il direttore generale della banca Montepruno Michele Albanese, il sindaco di Padula Paolo Imparato e il presidente del circolo sociale Carlo Alberto 1886 Felice Tierno. E ora passiamo allo sport con il calcio si torna in campo nei campionati di eccellenza e promozione campana in programma l'ottava giornata in eccellenza solo due sfide al sabato mentre in promozione nel girone di solo una gara è programmata per domenica ma vediamo i particolari nel servizio di Giuseppe Promolla. Vigilia di campionato in eccellenza e promozione campana che segna a partire da domenica anche il cambio di orario con fischio d'inizio alle 14.30. Nelle massimo torneo regionale trasferta complicata per il Valdiano che gioca sul campo della capolista Santomaso. I Blaugrana dopo l'acuto interno con il Santagnello proveranno a fermare la prima della classe per dare un vantaggio alle inseguitrici in particolare Audax Cervinare impegnato in casa con il Solofra e Polisportiva Santa Maria che riceve al Carrano il Castel San Giorgio. Alla Guariglia all'Agropoli dopo un periodo di appannamento vuole tornare al successo contro la Battipagliese mentre il Faiano riceve la Virtus Avellino. A completare il programma di eccellenza girone B Santagnello e clanese Scafatese Costa d'Amalfi e Palmese San Vito Positano. Nel campionato di promozione girone D si gioca quasi completamente di sabato con Calpazio e Angri che proveranno ad allungare in classifica sulle dirette inseguitrici. Entrambe giocheranno in casa rispettivamente contro Alfaterna e Centro Storico Salerno. Sperano in un passo falso il Picciola impegnato in trasferta sul campo della Rocchese, il Buccino Volcei che nel posticipo domenicale giocherà sul campo della Quavella e il Giffonise Casali che sulla carta è il match più facile della giornata contro il Campagna. A completare il programma gare San Maurese Temeraria, Sporting Ponte Cagnano Poseidon e Salernum Giffonese. Ed era questa l'ultima notizia di oggi, vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie. Grazie. Grazie.